Buonasera, stasera vi presento HP Reveal, ex Aurasma, sono Laura Antichi. Perché usare HP Reveal? È un'applicazione di realtà aumentata che ti consente di sovrapporre qualsiasi video o immagine sopra qualsiasi immagine che il tablet cellulare mobile scansiona con la fotocamera. Usare HP Reveal è simile all'utilizzo di un lettore di codici QR. Per ottenere le informazioni sovrapposte è necessario usare le app per Android o per iOS e scansionare le immagini a cui sono state aggiunte naturalmente informazioni. HP Reveal rende dinamici i contenuti con informazioni aumentate. Fare questo è un modo coinvolgente per gli studenti di apprendere materiale aggiuntivo, di corroborare le informazioni di base in un'esperienza di apprendimento. Possibili usi in didattica. Approfondire un argomento creando overlay di informazioni digitali. creare un giornalino ad esempio di classe o poster interattivi, fornire indizi per una caccia al tesoro, scansionare un'immagine, compiti e trovare istruzioni, aggiungere all'immagine di un libro la propria recensione, dall'immagine di un problema la sua possibile soluzione in video, la vocalizzazione prelinguistica dall'immagine alle parole, organizzare flashcard con messaggi nel linguaggio dei non udenti e molti altri usi che possiamo avere. Qui vi faccio un esempio di poster con Auras da leggere attraverso i dispositivi da un video di Charles Cooper. Sono stati attaccati quindi nell'aula questi poster e gli alunni possono accedere alle informazioni aggiuntive attraverso i loro dispositivi. Poi il progetto Ilari Loder e Cathy Cruz sulla tavola periodica degli elementi. Vedete che poi cliccando su ciascun elemento e gli studenti puntando con l'applicazione potranno avere e ottenere delle informazioni aggiuntive. Vi faccio anche vedere la prova dei 20 euro, la famosa prova che puntando con l'app di HP Reveal da mobile sull'immagine si hanno le informazioni aggiuntive. C'è un problema che è quello che HP Reveal normalmente non dà la possibilità di accedere all'Universal Auras, nel senso che bisogna iscriversi al canale per poter avere accesso alle informazioni aggiuntive. Ora questa possibilità di Universal Auras non è disponibile se non per gli utenti beta. Quanto dicono stanno lavorando per realizzarle e probabilmente le rilasceranno a pagamento. Vediamo i possibili effetti sull'apprendimento. per l'utilizzo dell'applicazione, quali i risultati, motivazione e coinvolgimento, interesse e passione, creatività e ideazione, supporto, ricerca, comunicazione e interazione, approccio dinamico e contenuti, memoria e consolidamento, interpretazione e visione. Quindi questa applicazione è sicuramente utile nell'ambito dell'apprendimento. Gli studenti possono essere coinvolti nel suo utilizzo. Ora vi volevo mostrare HP Reveal, l'applicazione da browser, si chiama Studio, e andremo a vedere come funziona questa applicazione. Mi sono collegata al sito http.studio.hpreveal.com nella landing e bisogna fare il login oppure registrarsi a HP Reveal. Faccio quindi farò subito il login, però volevo prima di passare a questo farvi vedere che già da questa pagina iniziale potete accedere alle applicazioni, alle app per iOS e per Android dall'App Store oppure da Google Play. E questo è indispensabile per l'uso che se ne farà poi da mobile. Ora faccio, io sono già registrata, faccio il login e mi dice se non avessi fossi già registrata andrei in Create Account e creerei un account con le stesse credenziali dell'account creato da mobile. Ecco, con il sign in entro nell'applicazione e ora vedete che qui sono disponibili tutte le mie le mie aurea auras e che ho la possibilità comunque di accedere con Discover alle aure che sono state pubblicate dagli altri utenti poi qui in Compange ho i canali e come vedete in asset ho tutti quanti i contenuti che ho uploadato e poi My Auras che ho le aure che ho creato e allora a questo punto creerò il paradosso di Achille la tartaruga di nuovo Create a new aura ecco e mi dice di cliccare da qui per uploadare il trigger image oppure di selezionare un'immagine esistente ora clicco to upload triggers image il nome posso mettere il paradosso di Achille e la tartaruga ecco potrei pure mettere le coordinate del luogo in cui vedere questa aura non lo faccio e poi posso caricare l'immagine il trigger image da un file oppure da drop box lo faccio da file quindi vado in browse e scelgo Achille questa immagine di Achille faccio apri do una descrizione sempre meglio darla adesso la metto provvisoria Achille e la tartaruga potrei mettere il paradosso di zenone non so allievo di parmenide ok magari lo mettiamo maiuscolo parmenide ok vado su save e mi sta salvando la la mia immagine ok ora vado in next e mi dice di cliccare qui to upload overlay io ho già preparato anche un piccolo video due parole per presentare l'argomento l'ho preparato prima e quindi faccio che il tipo spiegazione metto spiegazione mi dice di che posso caricare comunque un video un audio un'immagine un modello 3d come vi ho detto io avrei preparato un video e come vedete il massimo del caricamento sono 100 megabyte quindi vado in browse e prendo il video che ho creato ed ecco la tartaruga faccio apri ok e nella descrizione non so posso ripetere Achille e la tartaruga Achille e la tartaruga ok posso anche decidere il loop dell'overlay che si quindi ripeta una volta che è finita questo video o no io vado salvo non faccio il loop save ecco vedete speriamo che lo prenda che non sia troppo lungo come registrazione attendiamo che salvi il mio video intanto ricordatevi di aver scaricato di aver scaricato sui vostri dispositivi l'applicazione di HP Reveal ex Aurasma che è molto importante e di utilizzare lo stesso account che in abbe due le applicazioni sia quella su PC che è questa che vi sto facendo vedere che è il che è quindi online che è studio ecco vedete che adesso mi ha fatto l'overlay con il video e io posso posizionare questo video dove voglio o in una parte sola se avessi ad esempio un poster lo potrei collocare su una parte sola oppure su tutto lo schermo vedete lo posso posizionare in vario modo ok lo posiziono così e poi ho la possibilità di come vedete di altre azioni add action in più in più potrei aggiungere quindi un'altra informazione dal come un altro overlay con un url allora allora incollo un url url di un video che avevo trovato che mi sembrava e che mi sembrava interessante come vedete come vedete mi dice load e url e faccio save ok poi mi dice che quando il l'overlay è cliccata is pepped quando io cliccherò dopo sull'overlay potrò anche vedere il video in azione vado in next in next allora qua show ecco e qui posso anche rimuovere l'overlay posso anche scegliere uno a bordo per l'overlay facciamolo sicuro ecco e vado e vado avanti e quindi qui ho come vedete il ho già finito di produrre il il mio il mio HP Reveal aumentato su Achille la tartaruga e adesso completo i dati ad esempio scrivo il nome della dell'Aura Achille metto di Zenone ok posso mettere un hashtag Achille posso mettere degli altri ok e sono pronta per come vedete per finire il il mio lavoro con sia share che save con share mi dà la possibilità di mettere di pubblica la mia aura quindi la pubblico sull' l'antichis public auras share ok e voi vedete che qui ho la possibilità di vedere il mio lavoro già fatto la mia aura già pronta volevo dirvi che tutte le aure che auras che vengo creando creo qui in studio con HP Reveal le posso poi anche vedere nell'applicazione per mobile non succede la stessa cosa quando invece realizzo delle auras da mobile non le vedo nell' nell'applicazione allora adesso vediamo com'è andata come potete vedere adesso faccio la prova e appunto ho aperto dal cellulare che ve lo sto mostrando ho aperto l'applicazione a HP Reveal e adesso vado a puntare l'immagine e qui dai subito il video che ho inserito del video che ho inserito Achille e la tartaruga sono pronti alla tartaruga viene dato un bando e adesso come vedete mi da anche la la gara la cento metri tra l'erogre con Achille e la sua cerima rivale la tartaruga sta per cominciare chi vincerà vedete qui mi da tutto il video Achille e la tartaruga sono pronti quello che avevo poi inserito diciamo che Achille ha una velocità costante di 10 metri al secondo la tartaruga è una velocità costante di 5 metri al secondo la corsa comincia dopo un secondo Achille si trova a 10 metri dalla partenza dove prima c'era la tartaruga ecco adesso volevo farvi vedere un'altra applicazione che avevo creato che è di Alain Bertose la simplicazione vediamo di farla partire vedete la trattata la belle e perché un libro su la simplexità un nuovo concept dopo aver scritto il senso del movimento la decision e perché siamo completamente ecrasati nel mondo d'aujourd'hui la complexità la complexità delle relazioni sociale la complexità delle obiettiche la complexità per Tose vi saluto e vi auguro una buona serata ciao 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 ciao